Wow! Bene, vado a comprare dei calzini nuovi. Salve, gente! Sono Ace, direttore di M, il negozio per scaricare la memoria! Vi piacerebbe ricordare dove avete messo la parrucca? O dimostrare alla mamma che vi siete lavati i denti? O riguardare i momenti per ricordare perché vi siete sposati? È tutto gratis! Chi vuole scaricare la memoria? Mia nonna! Ma lei ha l'amnestia! Amnesia? Nessun problema! Il procedimento di M scarica anche i ricordi perduti! Si comincia! Pronti? Buono, bello! Sta scaricando la nonna! Ricordi recuperati! Sì! Ora possiamo guardare i suoi ricordi! Ma alcuni ricordi potrebbero essere intimi, anche se ancora non ricordo niente. Proprio così! Tutti quanti nascondiamo qualcosa di vergognoso, per questo caricherò tutti i suoi ricordi su internet per farli vedere al mondo, a meno che voi non mi paghiate 50.000 dollari entro oggi! Cosa? Ci sta ricattando? Già, proprio come tutti gli altri! Oh no! L'intera città è nei guai! Non preoccuparti, nonna! So io cosa fare! Andiamo, Mr. Peacles! Oh, Tommy! Pensavo fossi il ragazzo delle consegne che mi portava del pesce! Pesce? No, grazie, Blade! So che sei bravo con i computer e ho bisogno del tuo aiuto! M ha messo su un'attività in tutto il paese e gestito dai migliori hacker viventi, ma potrei hackerare il computer di Ace e cancellare i file con le memorie da remoto. Pesce? No, grazie! Sentito, Mr. Peacles! Può cancellare tutti i ricordi! Oh no! Ace ha cifrato ogni file, quindi per cancellarli io dovrei ricaricarli all'interno dei cervelli originali. Mi spiace, non posso aiutarti. Lewis, ti avevo detto di smetterla di comprare tutti quei pesce online! Stanno uscendo fuori dal cesso! Nonna, ti ho detto di chiamarmi Blade. Quando abbandonerai questa storia del hacker e crescerai, Lewis! Quella è una donna davvero irritante, pesce! No, grazie! Andiamo, bello! Oh! Aspetta! Che cosa stiamo facendo? Posso scaricare i file nel tuo cervello e poi cancellare le memorie dal computer di Ace. Sta funzionando! Si stanno cancellando. Quando uno è bravo, è bravo! Che sta succedendo? Non voglio saperlo! Questo! Oh, questo! Oh! Mi fa male la testa! Fallo smettere! Interrompere a metà il passaggio potrebbe causare morte cerebrale. Deve essere disconnesso dalla fonte originale. Pesce! Ehi! Abbiamo i tuoi soldi! Che sta succedendo ai miei computer? Chi sta cancellando i miei file? Ehi, che cosa vuoi, tu, stupido cane? No! Hai rotto il mio computer! Ehi!